E siamo tornati, e siamo ancora qui, e siamo ancora insieme, un altro video in cui parlare di Juventus e di tutti i movimenti, di quella che a tutti gli effetti sarà la Juventus di Tiago Motta. Stiamo soltanto aspettando la firma ufficiale sul contratto, dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana e quindi sono già qui che non vedo l'ora di leggere il comunicato per portarvi il video e discutere insieme di tutti quei dettagli che accompagneranno quello che sarà molto probabilmente un contratto triennale per Tiago Motta. E proprio sulle cifre del contratto, anzi sulla durata del contratto parleremo in questo video per agganciarci ad un'altra tematica, ad un altro dibattito. Arriviamo. Prima di tutto Acerbi molto probabilmente non andrà, anzi con tutta probabilità non giocherà l'Europeo a causa di una pubalgia al suo posto prealertato Federico Gatti. Se dico quello che penso, qui salta tutto. Karma, mi limito a dire un po' di karma, poi successo o non successo, sapete già come la penso sull'argomento, cosa penso sull'argomento. Più che karma forse nei confronti di Acerbi, karma nei confronti di Gravina. Questa è un po' la mia lettura. È una lettura che a tanti non piacerà, a tanti piacerà, non mi interessa. È la mia e vedremo che cosa succederà. Io non credo che poi Gatti alla fine andrà a fare comunque l'Europeo, però se Acerbi non sarà presente non mi andrò a strappare le vesti. Anzi, penso che sia corretto non averlo in rosa per l'Europeo. Però vediamo quello che succederà tra poco perché dovrebbe essere annunciata a breve la lista definitiva dei convocati da parte di Luciano Spalletti. Adria Rabiot, l'argomento caldo, la tematica di questo episodio, di questa puntata odierna di analisi sulla Juventus. Perché nella giornata di oggi stanno uscendo alcune indiscrezioni che vorrebbero un Rabiot che non solo rimarrà a Torino, ma firmerà un rinnovo di contratto per due anni più opzione per il terzo a 7 milioni e mezzo all'anno. Ok, sedetevi, prendete un goccino d'acqua, bevetevelo tranquilli, mandate giù. Quindi vi spiego un attimo. Già l'altro giorno che abbiamo fatto un contenuto di Echinoosci sul canale di Colpo Gobbo, in cui andavamo a descrivere secondo noi i giocatori che sarebbero rimasti, sarebbero antivie, eccetera, eccetera, io e Echino ci siamo detti, guarda, io non lo rinnoverei, però secondo me alla fine rimarrà a Torino. E Lello ci disse invece che per democrazia inseriva nella tier list Rabiot rimarrà a Torino, ma che secondo lui invece non sarebbe rimasto. Poi vediamo, magari avrà ragione Lello. Ma questa mia posizione nasce dal fatto che mesi fa ormai avevo intervistato qui sul canale Giovanni Albanese e Giovanni ci aveva raccontato un po' le strategie di mercato della Juventus, era stato il primo a darci di Gregorio a Torino quando ancora nemmeno si discuteva di questa cosa sui giornali, ci aveva parlato della Juventus e di Giuntoli che avevano sondato l'Umeti a Gomotta e tutte queste cose qui. E ci aveva anche spiegato che secondo lui Rabiot poteva essere un nome di quelli da rinnovo per un motivo, e cioè se Rabiot avrà un figlio o acquisterà un immobile in Italia nel prossimo anno riuscirà a godere nuovamente del decreto crescita. Questa era la spiegazione che ci aveva dato Giovanni. Perché Rabiot era arrivato in Italia nell'annata di Sarri, insieme a Danilo, nello stesso anno, e quindi sono giocatori che, avendo usufruito in precedenza del decreto crescita, il decreto crescita in questo momento è stato abolito, però i giocatori che già usufruivano del decreto crescita possono continuare a farlo a patto che appunto accada una di queste due cose. E io credo che Rabiot sia in grado, con i due soldini che avrà guadagnato in carriera, di comprare almeno un immobile a Torino. Io penso proprio che Rabiot ce la possa fare, va al che vada, si prende su, va in banca e chiede un mutuo. Ma credo che Rabiot comunque un garage, un buono locale, ma secondo me anche una bella villetta sulle colline torinesi, se la possa permettere. Ha maggior ragione per riuscire a guadagnare quei 7 milioni e mezzo di euronetti all'anno, che per la Juventus invece sarebbero scontati, sgravati da tante pressioni fiscali, e quindi la Juventus non andrebbe a riconoscere circa 15 milioni lordi a Rabiot, ne ne riconoscerebbe meno, e quindi per la Juve lo stipendio di Rabiot sarebbe sull'ordine dei 5 milioni, una roba del genere, 4 e mezzo forse. Quindi a Rabiot conviene, alla Juve conviene, a patto che Rabiot vada ad acquistare un locale, un qualcosa, deve comprare, oh, magari vuole diventare papà, è un classe 95, l'anno prossimo spegnerà 30 candeline, non so se Rabiot è il momento accompagnato oppure no, vedo più probabile l'acquisto di una casa. Fatto sta che Rabiot è un giocatore che piace a Tiago Motta. Alcune voci dei beni informati parlano di un Rabiot e un Tiago Motta che avrebbero pure discusso con Tiago Motta, che avrebbe chiesto a Rabiot di rimanere. Io qui faccio un po' il ragionamento che avevo fatto su Desciglio. Io non ero a favore del renovo di Desciglio di 3 milioni, o 4, quelli che sono stati. Però mi ero detto, ragazzi, quando arriva un allenatore e fa delle richieste su determinati giocatori in rosa, ci sta a contentarlo. Poi si valuta. Quindi il renovo di Desciglio, oggettivamente, è stata una follia, al di là del fatto che, poverino, ha avuto un infortunio pesante, eccetera, eccetera. Però la richiesta Allegri sul renovo di Desciglio è stata una follia. Però vi sono anche dell'idea che la società debba, per forza di cose, prendere in considerazione l'ipotesi di un allenatore. E se Tiago Motta sta per firmare un triennale, e di Rabiot si parla di rinnovo biennale più opzione per il terzo, è tutto legato al fatto che Tiago Motta e Rabiot vogliono continuare insieme questa avventura della Juve. Tra l'altro Rabiot poi, secondo me, diventerebbe un simbolo della Juve. Forse anche il capitano della Juve. Perché sarebbe uno di quelli con più esperienza all'interno della squadra, esperienza internazionale, tanti anni di servizio a Torino. E quindi, secondo me, Rabiot diventerebbe addirittura quello che vestirà la fascia dopo l'addio degli anni dei varicchiellini, Bonucci, Di Bala, Quadrado, Alexandro. Vedremo, ormai manca Danilo. Poi se la giocheranno, secondo me, Rabiot e Locatelli. Io aggiungo il nome di Vlaovic, che mi sembra sempre un nome importante, interessante per la Juve, lato fascia. Poi, magari, Vlaovic non sarà destinato a rimanere tanti anni a Torino. Però, secondo me, Rabiot poi diventerebbe anche il candidato. Io, ripeto, quello che avevo detto l'anno scorso. Io non avrei rinnovato Rabiot nemmeno l'anno scorso. A parte che il rinnovo annuale, credo che sia stata una porcheria allucinante. Cioè, un rinnovo annuale ti ha rimesso nella situazione quest'anno di dirti, sì, ma tu Rabiot ce l'hai o non ce l'hai? Poi staranno parlando, staranno discutendo. Rabiot e Tiago Motta hanno già giocato insieme a Parigi, quindi si conoscono, eccetera, eccetera, eccetera. Però, dal livello di programmazione, un rinnovo di un anno lo trovo insensato. Trovo molto più insensato un rinnovo di due anni, più opzione per il terzo. Perché almeno ti metti al sicuro da un'eventuale necessità di doverti mettere tutti gli anni a perdere tempo, energie, a ridiscutere un contratto. Poi magari in due anni, se l'anno prossimo Rabiot al fine dell'anno riceve un'offerta, può essere pure ceduto. E quindi vai a fare una plusvalenza, dato che l'hai acquistato a parametro zero. Per la Juve probabilmente conviene il rinnovo di Rabiot, perché poi non devi andare sul mercato a investire su un nuovo cartellino di un calciatore. Semplicemente, banalmente. E dato che abbiamo parlato degli sgravi fiscali del decreto crescita, era quella la motivazione per cui l'altro giorno da lei lo dicevo, per me alla fine rimane. Capisco, perché l'altro giorno vi dicevo, sì, cediamo Rabiot e andiamo su Ederson. Sì, però Ederson avrà un ingaggio minore, però il cartellino significa che poi ha un ammortamento molto molto alto e deve tirare fuori quei soldi. Quindi molto probabilmente Rabiot va a prendersi quella casellina che avevamo individuato in Ederson, comunque uno di quei centrocampisti, perché se non cedi Rabiot non devi comprare un centrocampista, ovviamente, perché ce l'hai già. E quindi la Juve immagino che possa tenere Rabiot, Fagioli e Locatelli, in generale dei centrocampisti all'interno della Rosa, e ragionare sulle uscite degli altri e di conseguenza sugli acquisti. Poi per me, lo mi dico, Mainers, al di là di Rabiot rimane valido, perché non possono essere la stessa casellina. Cioè, non fanno la stessa cosa, non occupano la stessa posizione. Vi dico, lato Rabiot, io capisco la permanenza di Rabiot all'interno della Juve di Tiago Motta per un motivo. Per un motivo. E cioè, lo trovo un giocatore coerente con lo stile di gioco di Tiago Motta, con quello che abbiamo visto a Bologna quest'anno. sono giocatori, quelli di Tiago Motta, i centrocampisti, che tendono ad allargarsi, a svuotare il centrocampo, a dare manforte agli esterni, proprio larghi. Rabiot questa cosa la fa molto bene. Non solo, Rabiot è anche un giocatore che riesce ad andare a prendere il pallone basso e quindi ti dà la soluzione, l'ipotesi di poter iniziare l'azione. Vi avevo fatto un contenuto a marzo, a marzo, quasi tre mesi fa ormai, in cui parlavo della Juventus di Tiago Motta. Se ancora non l'avete visto, io ve lo lascio qui sopra nelle schede. Però vorrei ipotizzare alcune Juventus di Tiago Motta con Rabiot, partendo da, non lo so, un paio di acquisti che ormai sappiamo che bene o male ci saranno, e cioè di Gregorio Calafiori, e aggiungo io Cobb Mainers, perché è un giocatore che secondo me alla fine la Juventus proverà a fare fino all'ultimo, e ipotizzando il 4-1, 4-1 di Tiago Motta, abbiamo una roba di questo tipo. Quindi con Rabiot, che come vi dicevo, può andare a prendere il pallone per iniziare l'azione, sulla tre quarti, due centrocampisti come Cobb Mainers e Fagioli. Perché è interessante questa disposizione di centrocampo? Perché in realtà questo è anche banalmente un 4-2-3-1 con Rabiot e Fagioli nei due, e Rabiot nei due secondo me è il suo ruolo migliore, lì nei due davanti alla difesa, con Fagioli che potrebbe amministrare il pallone con più qualità e Rabiot invece dare quella fisicità in più lasciando Cobb Mainers, il dizze chiesa sulla tre quarti. Non solo, Fagioli potrebbe essere anche impiegato come regista vecchio stampo, anche se secondo me non è esattamente la sua posizione per cercare di allargare sia Cobb Mainers che Rabiot, come vi dicevo prima, quando la Juventus andrà a sviluppare il gioco sugli esterni. E invece vi offro questa soluzione tattica interessante per formare quel 3-4-3 che vediamo spesso e volentieri anche a livello Manchester City se vogliamo quella MW in cui abbiamo il doppio pivot, in questo caso sarebbe Cambiaso che andrebbe a stringere insieme a Rabiot per formare i due giocatori davanti alla difesa con Calafiori e Bremer e Danilo che andrebbero a formare una sorta di difesa 3, il dizze chiesa che vanno a prendere l'ampiezza, Cobb Mainers e Fagioli invece sulla tre quarti a cercare di inserire quei palloni filtranti per Vlaovic che andrebbe ad attaccare la profondità. Quindi questa formazione oggettivamente con il rinnovo di Rabiot sarebbe anche abbastanza sensata, equilibrata e abbastanza vicino alle esigenze tattiche di Tiago Motta. Poi rimane sempre il solito discorso a me piacerebbe utilizzare quello spazio salariale dedicato a Rabiot per l'acquisto di un altro calciatore però capisco anche le esigenze della Juve mi piace di più l'ipotesi di ragionare sul rinnovo più lungo piuttosto che sul rinnovo usegetta che vuol dire assolutamente non programmare ma vivere la giornata è un rinnovo importante sì lo è è un rinnovo costoso sì lo è anche se con qualche milione in meno da parte del decreto crescita è il rinnovo che avrei fatto no è il rinnovo che accadrà molto probabilmente sì e le ragioni ve le ho esposte all'interno di questo video fatemi sapere la vostra opinione questo è tutto nei commenti grazie a tutti